Ciao ragazzi, oggi è venerdì 3 agosto e io sono Simone Maffioletti, siamo a Place Crossfit BGY e oggi facciamo un warm up da Crossfitter. 50, 40, 30, 20, 10 di Jumping Jack Speed Barbees. Semplicissimo, dopo aver fatto questa attivazione non ci resta altro che aspettare con impazienza il WOD. Ci vediamo fra qualche minuto quando avete lavorato su questa fase. Ed ecco la fase di forza di oggi, oggi lavoriamo su Front Squat, 3 ripetizioni, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Per arrivare a questo prendetevi il vostro tempo, un buon recupero fra una ripetizione e l'altro, 2 minuti e mezzo, 3, per permettere di riuscire ad arrivare al nostro singolo maggiore possibile. Cioè facciamo in modo di caricare quello che ci possiamo permettere oggi. Ed ecco la fase metabolica, sono 3 round dove faremo 10 Dumbbell Front Squat, 20 Chest to Bar Pull Up e 50 Double Unders. Naturalmente, come sempre, abbiamo 3 livelli. Se sei avanzato farai con 34 kg se sei ragazzo, 24 se sei donna. Se sei intermedio farai 25 kg se sei ragazzo, 17,5 se sei donna. Se sei invece beginner, facciamo 3 round di 10 Dumbbell Front Squat, 15 kg ragazzi, 10 ragazze, 20 Pull Up e 100 Single Unders. È un workout che ti permette di riuscire a testare sia su movimenti della ginnastica che su dei movimenti coordinativi. Non perdere il ritmo, guarda avanti, sorridi e finisce anche questo allenamento. Benissimo, ora che abbiamo capito come fare, vi aspetto al box. Noi siamo a Bergamo, CrossFit Place, CrossFit BGY. Ci alleniamo tutti i giorni dalle 6 del mattino alle 10 di sera. I nostri coach sono prontissimi ad accoglierti qualsiasi sia il tuo livello e farti allenare al meglio. Seguici sulla nostra pagina Facebook Place CrossFit & Delf oppure seguici direttamente sul nostro sito placelab.it. Io sono Simone Maffioletti, il mio sito è simonemaffioletti.it. Seguimi perché ogni settimana posterò un articolo o un video che parlerà di allenamento. Ogni settimana su simonemaffioletti.it insieme parleremo di allenamento, movimento e ci sarà un video per toglierti delle curiosità. Ti aspetto lì, iscriviti, ci vediamo presto. Ciao ciao! Ciao!